Quella rimonta non si è completata, vi è mancato qualcosa? Eh sì, ci siamo un po' fermati, abbiamo subito un paio di errori che abbiamo fatto noi, una chiamata arbitraria un po' così, non per trovare l'anima dell'altro, però abbiamo un po' battito, non trecano avanti e ci siamo blocchiato perché ne stavamo giocando bene, ne stavamo mettendo più questa peccata. La battuta aveva fatto con la Lund, un primo set, non bello, e poi iniziamo a giocare questo. Sì, sì, ma qui insomma noi la stiamo giocare completo, però stasera Manik ha fatto una partita incredibile, c'erano certe aspettative, però insomma giocare contro una formazione ambiziosa come Corelliano senza avere un cambio è difficile. Soprattutto con una giocata vince fuori in voi? Eh sì, sì, sicuramente. Adesso cosa ti aspetti per la prosegua dell'ancetto? Eh, noi sappiamo altre due settimane, non si sa mai come se due settimane ci portino qualcosa di nuovo, dobbiamo andare a Istanbul, sarà difficile, però non penso impossibile, non penso impossibile. C'è una squadra molto forte, però che lascia qualcosina, che concede qualcosina, quindi boh. Sicuro Busto è una squadra che non molla? Questo sicuro.